perfetta mia moglie signore eh si è sono diventata nonna siamo diventati nonni Luca dica da dove arriviamo dal Montebaldo signore il Montebaldo è una terra rara gente speciale, gente che vuole di lavorare quasi tutti quasi tutti i più tanti però, i più tanti abbiamo tanti sassi noi su Montebaldo se qualcuno ha tempo da prendere può venire a raccoglierli anche fa le moto intera, fa le marogne dai mettete qua, tasi, un attimo ti è indurro, metti la mano sotto che mi verso sei tu? si pronto? dai guardami Luca che bella figura lo sarebbe questo? capra capra siamo ho capra trovando no 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 sia la ah 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 ah